Delle urla spaventose, degli oggetti che si muovono, delle silhouette sfocate, immortalate da una telecamera. Abbiamo tutti sentito parlare di questi fenomeni misteriosi che sfidano la logica. Ma cosa ne è quando questi incidenti sono registrati e filmati? Oggi ci immergiamo nell'universo del paranormale. Preparati a tremare e forse a mettere in discussione ciò che credevi di sapere, perché stiamo per attraversare insieme il velo dell'ignoto. A Burnley, nel Lancashire, viveva una donna di nome Donna Ayers, con i suoi quattro figli e il suo partner Jason Hayes. Tuttavia, Donna viveva un vero e proprio incubo. Dal 2009, degli eventi strani si svolgevano nella sua vita. Uno spirito sembrava inseguirla, un poltergeist che non è altro che quello di suo fratello deceduto con il quale intratteneva una relazione agitata. Le perturbazioni erano tra l'altro talmente intense che era stata costretta a traslocare cinque volte. Infatti, il quotidiano di Donna era segnato da degli eventi inquietanti, come cucchiai in levitazione, delle lampade che dondolavano violentemente, delle tavolette Ouija che volavano attraverso la stanza e persino delle echimosi sul suo corpo. Inizialmente nessuno credeva a Donna, allora ha deciso di filmare questi eventi paranormali. Eppure i suoi sforzi per essere creduta sembravano peggiorare l'attività dello spirito, come se l'entità fosse scontenta di essere esposta. Tutta questa storia ha finito quindi per attirare l'attenzione dei ricercatori paranormali. Per Donna, però, la cosa peggiore non era l'attività paranormale in sé, ma l'idea che questo spirito potesse essere quello di suo fratello. Avevano un rapporto difficile e sembrerebbe che sia tornato a perseguitarla. Si trattava allora di un tentativo per placare le tensioni passate, oppure un modo per continuare a tormentare sua sorella? È una serata banale, appena prima di Halloween, nella città di Oregon City, nel negozio di alimentari Five Zero Trees. Tuttavia, in questo negozio delle cose strane accadono, secondo i dipendenti. Un giorno, uno di loro, di nome Andy Gomez, stava peraltro lavorando da solo, quando improvvisamente un evento misterioso è accaduto. Infatti, sul video di sorveglianza si vede un barattolo di vetro scivolare dal bordo di un bancone e cadere. Poco tempo dopo, la telecamera di sorveglianza cattura un altro incidente. Un portapenne piazzato su un altro bancone inizia a muoversi da solo, le penne all'interno d'ondolanti senza una ragione apparente. Ma come è possibile? In realtà, lo spazio in cui è costruito il negozio di alimentari Five Zero Trees ha una lunga storia. In passato, nello stesso posto, c'era una farmacia. Di conseguenza, Davidson, la direttrice del negozio, sospetta che il fantasma del farmacista di un tempo sia l'origine di questi fenomeni. E visto che gli oggetti cambiano posto, pensa che questo fantasma sia un maniaco dell'organizzazione. Per esserne sicuro, Davidson decide di sollecitare Rocky Smith, proprietario di Haunted Oregon City e investigatore paranormale. Come se lo aspettava, quest'ultimo riconosce che ci sia qualcosa di anormale nel suo negozio. Peraltro aggiunge che la ricostruzione sopra ad antichi edifici possa essere all'origine di questo genere di fenomeno, i quali non sono rari nella città, perché bisogna sapere che la città di Oregon City è famosa per la sua atmosfera stregata. In una serata d'estate 2017, una bambina attraversa una strada appena illuminata. Un'auto si avvicina e la bambina, presa alla sprovvista, è sul punto di essere investita. Allora, un misterioso salvatore compare dal nulla e afferra la bambina appena in tempo. La depone dall'altra parte della strada prima di scomparire, lasciando perplessa la bambina, i conducenti e te stesso, senza dubbio. Ma cos'è appena successo? Beh, lo ignoriamo. Tuttavia, il video di questo incidente è diventato virale. Gli internauti del mondo intero si fanno delle domande su quest'uomo misterioso. Ovviamente le teorie da allora procedono speditamente. Alcuni telespettatori pensano infatti che l'uomo misterioso sia un angelo, mentre altri credono che si tratti del fantasma di suo padre. Ma tutte queste ipotesi hanno un punto in comune, il paranormale. Eppure, nonostante le citazioni e le congetture, non ci sono prove concrete e non c'è nessun rapporto serio riguardante questo incidente paranormale. Non ci sono testimoni oculari. E soprattutto, il video somiglia a un altro video virale che è stato virale qualche anno fa. Quest'ultimo sosteneva dimostrare un teletrasporto reale in Russia, il quale risultato essere una promozione per un videogioco cinese. Un giorno, Christy Ranieri, accompagnata dal suo marito Michael, passeggiava Lake Forest, nell'Illinois. Passano davanti a una grande vecchia casa piuttosto fatiscente, la cui storia affascina gli abitanti del posto. Christy decide allora di fotografarla. Al momento dello scatto, nulla di straordinario, ma quando esamina la foto con suo marito, fa una scoperta inquietante. Il viso di una donna compare in una finestra della casa. E non una donna qualsiasi. Infatti, Christy è convinta che l'immagine che ha catturato sia quella di Ginevra King. Ma quindi chi è Ginevra King? Beh, era una ricca mondana che abitava in questa casa un tempo grandiosa, ma è soprattutto famosa per essere stata l'ispiratrice e l'amante del famoso scrittore F. Scott Fitzgerald. Infatti, i due amanti si erano incontrati nel 1915, prima che Ginevra lo lasciasse due anni dopo per sposare un ricco erede di Chicago. Allora, si tratta davvero di questa donna defunta nell'immagine di Christy, quest'ultima ne è convinta. Tuttavia, resta da sapere se lo spirito di Ginevra King sia nascosto nella sua antica proprietà. La coppia si precipita quindi verso la villa, ma la silhouette è scomparsa. Nel periodo che è seguito, la misteriosa foto di Christy ha destato un nuovo interesse per questa abitazione abbandonata. Tra l'altro, quest'ultima potrebbe proprio attirare gli appassionati di fenomeni paranormali, curiosi di vedere se il fantasma di Ginevra continua a gilovagare in queste mura ricche di storia. Ma fin qui, il fantasma di questa donna, se lo è, resta un mistero. La sua teoria reale e romanzata continua ad ispirare ed affascinare gli abitanti del posto, come ha ispirato gli scritti di Scott Fitzgerald circa un secolo fa. In queste immagini, riprese da un parrucchiere, si può osservare un'attività strana e quasi impercettibile in fondo alla sala. Mentre il parrucchiere si occupa di un cliente, la casacca blu, piazzata su un sedile in fondo, si solleva leggermente. Il parrucchiere non credeva ai propri occhi, visualizzando le immagini. Desideroso di capire l'origine di questi fatti, si informa e viene a sapere che il suo commercio fosse stato costruito su un antico cimitero amerindiano, cosa da far gelare il sangue a molte persone. La casa in cui vivono Heather Brough e Josh Higgins si trova in Michigan negli Stati Uniti. Questa vecchia abitazione ha tuttavia una storia oscura. Infatti, è stato raccontato loro di fonte sicura che l'ex occupante di questa casa, una donna molto anziana, fosse morta dopo essere caduta dalle scale. Era rimasta a lungo distesa con un'anca rotta prima di morire per le sue ferite. E suo fratello schizofrenico, il quale ha vissuto successivamente in questa dimora, beh, vi è morto anche lui. Queste storie spaventose confermano quindi i timori della coppia. Non sono soli. Heather e Josh vivono così in una paura costante. La presenza di ciò che sembra essere uno spirito è sempre più manifesta. Heather racconta che è stata persino svegliata da urla di uomo, da rumori di passi nelle scale e persino da una sensazione di strangolamento. Un incidente in particolare è stato immortalato per caso da una telecamera di sorveglianza. Un giorno Heather sveglia sua figlia di un anno, Lily, la quale faceva un pisolino. Allora fu una scoperta terrificante. La guancia della bambina porta tre profondi graffi viola. In preda al panico, la madre guarda le immagini della telecamera di sorveglianza della camera e scopre una silhouette sfocata, effimera, che passa davanti alla culla di Lily prima di scomparire. Da quel giorno i genitori non osano più lasciare la loro figlia da sola nella sua camera e si assicurano di restare sempre con lei. Cercano disperatamente una nuova casa per allontanarsi da questo luogo stregato. Tra l'altro, i genitori si sono rivolti ad investigatori paranormali, i quali hanno confermato l'attività paranormale in questa casa. I ricordi di questa esperienza tormentano ancora Heather e bisogna dire che non è senza ragione. Una misteriosa presenza infesta la casa di Ashley Scott, una giovane madre, e semina il terrore e la preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza di suo figlio. Le paure di Ashley non sono senza fondamento. Infatti, le telecamere di sicurezza installate da loro hanno filmato un fatto apparentemente soprannaturale, e le immagini sono agghiaccianti. Ecco cos'è successo. Un giorno in cui Ashley faceva la spesa, il suo coniuge Chris le ha mandato un video inquietante fatto nel loro domicilio. Vediamo il loro figlio di un anno, Gavin, strisciante, nella camera matrimoniale, mentre Chris guarda la televisione. Improvvisamente Gavin si immobilizza e sembra fissare un punto invisibile per qualche secondo, prima di crollare bruscamente, mancando per poco di colpire il suo viso contro il suolo. Il bambino, visibilmente scioccato, si gira per vedere ciò che l'ha spinto, ma non c'è niente. Una forza invisibile sembra aver esercitato una pressione su di lui. Questo incidente si aggiunge a tutti gli altri. Infatti, non è la prima volta che Ashley fronteggia dei fenomeni paranormali. Racconta di essere sempre stata sensibile a queste esperienze dalla sua infanzia, specialmente quando ha visto la silhouette misteriosa di un bambino nella sua camera. Ma da quando ha traslocato in questa casa tre anni fa, le attività soprannaturali si sono intensificate, partendo dai rumori misteriosi agli oggetti che cadono senza spiegazione. La madre ora è estremamente preoccupata per la sicurezza di Gavin, e la capiamo. Teme le maligne intenzioni di questa entità che non esita a tormentare il loro figlio. Si spera che la famiglia ritroverà velocemente un'esistenza tranquilla e serena. Darla Anderson, una giovane proprietaria di 23 anni del Blue House Pub a Endon, ha vissuto un'esperienza terrificante. Una sera normale, mentre alcuni clienti sorseggiavano la loro bibita, un incidente inspiegabile è accaduto. Una pinta di birra piazzata sul bar si è improvvisamente rovesciata senza che nessuno la toccasse. Stupita, Darla ha deciso di consultare le registrazioni della telecamera di sorveglianza del pub. Con sua grande sorpresa, il video ha confermato ciò che provava. Sembrava che una forza invisibile avesse rovesciato la pinta. Darla si ricordò allora delle parole di una sensitiva che aveva visitato il pub alcuni giorni prima e che aveva dichiarato che provava qualcosa di strano. Questa storia misteriosa è ora l'argomento di dibattito tra i fedeli del pub e sui social network. Ma se alcuni sono scettici, altri sono convinti dell'esistenza del fantasma. Comunque sia, il Blue House Pub a Endon è diventato un luogo di curiosità per tutti. Nel 2003, un evento paranormale ha seminato l'agitazione al Wingate Hotel dell'Illinois. Le urla spaventose provenivano dalla camera 209. Però quella sera, in teoria, nessuno occupava quella camera. John, un impiegato della sicurezza, si è quindi recato sul posto per fare una veloce indagine. Davanti alla porta, esita, pensa innanzitutto di chiamare la polizia, ma decide di entrare. Tieniti forte, è risultato che la stanza fosse in un disordine totale. La cosa più sorprendente è quando le telecamere di sicurezza hanno catturato una silhouette misteriosa che sembrava uscire dalla camera nel momento in cui l'impiegato vi entrava. Questa storia, diventata famosa grazie a un video YouTube pubblicato nel 2012, continua a sconcertare il pubblico e contribuisce ad alimentare l'eterno dibattito sull'esistenza dei fantasmi. Così finisce il nostro video, quale storia ti ha spaventato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!